Buona mercoledì, 9 giugno. Gesù ci racconta parabole, esempi di vita quotidiana concreta, eventi della natura. Ci riporta alla concretezza della nostra quotidianità. Lo fa con semplicità ed eleganza ma con profondità, che svela la complessità della vita. Quando viene messo in terra il seme, poi il contadino non ha altro da fare, aspetta che cresca perché non sarà lui a provvedere, ma la natura stessa farà sì che quella pianta cresca rigorosamente e doni all'umanità il suo dono. Non è un'opera meritevole del contadino che ha seminato. Il contadino ha fatto la sua parte. Il contadino è naturalmente ciascuno di noi che è chiamato a seminare ma a lasciare essere delle cose. È chiamato a educare le giovani generazioni, gettare un seme, ma non forgiarle a proprio uso e consumo. Sarà la vita stessa a forgiarle. Noi facciamo troppe forzature e pretendiamo di essere i protagonisti della vita su questo pianeta. Alla fine abbiamo finito per depredarlo. Lo lasciamo e non riconosciamo che sia un dono di Dio e se qualcuno non è credente, che sia la bellezza della natura a rendere possibile che un piccolo seme diventi una pianta rigogliosa. E qui nella parabola ci ricorda la pianta di senape, il piccolo seme, il credo di senape, quel piccolissimo seme che forgerà una pianta alta, bellissima. È un'opera straordinaria. della quale neppure la scienza sa poi un granché se non descriverla nel dettaglio, ricostruire il processo, ma non è in grado di comprendere il mistero del senso di tutto questo, che è a fondamento della vita, della nostra vita. Gesù ci ricorda che dobbiamo affidarci al Padre, che ci dona la grazia di tutto questo che accade, di essere creature nel creato, non creatori in una nostra proprietà. questa è l'intensità della parabola. Poi sta scritto anche nel Vangelo di oggi che Gesù parlava alle folle attraverso parabole. Disseminava, non certo discorsi semplici, ma molto complessi, che richiamano costantemente a una conversione della nostra vita, dei nostri comportamenti, mentre in intimità. Parlava poi con i suoi discepoli per spiegare loro probabilmente quello che non avevano capito e quindi noi siamo chiamati ad accogliere la ricchezza di questi inviti a lasciarci andare e contemporaneamente trovare anche uno spazio di meditazione, entro il quale potremo comprendere attraverso la trascendenza la realtà del nostro radicamento nel creato, chiamati a una quotidiana conversione in nome della giustizia e dell'amore. Buona giornata a tutti.